Ha l'obiettivo di scovare gli asintomatici e si punta a trovarne almeno un centinaio, lo screening di massa che sarà eseguito a Lanciano nei prossimi due fine settimana. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo di Città dall'amministrazione comunale e dall'ASL provinciale di Chieti. Per avere successo dovranno sottoporsi al test rapido 14.700 persone, dice al Tg Max la dottoressa Manola Rosato, responsabile del distretto sanitario di base e della macchina organizzativa dal punto di vista sanitario. Lo screening è gratuito ed è aperto non solo ai residenti, ma a tutti coloro che lavorano e studiano a Lanciano o che raggiungono la città per motivi familiari o sociali o altro. L'importante è avere più di sei anni di età. Quattro le postazioni allestite, in centro il foie del Teatro Fenaroli, e poi il Palazzetto dello Sport in zona Cappuccini, il Palamasciangelo nel quartiere Santarita e il Padiglione 1 di Lanciano Fiera all'Iconicella. I lancianesi sono invitati a recarsi nelle sedi abbinate alla propria sezione elettorale. Non sarà necessario prenotarsi, ma soltanto riempire un modulo di adesione con i propri dati anagrafici e portare con sé la tessera sanitaria valida. Ad eseguire i tamponi antigenici saranno medici e infermieri volontari reclutati dalla ASL, con la logistica affidata al COC del Comune e alla Protezione Civile. Sarà presente anche un'ambulanza del 118, aggiunge la dottoressa Rosato, per eseguire immediatamente il tampone molecolare di controllo alle persone che dovessero risultare positive. A disposizione ci sono circa 100 tamponi molecolari. Infine, sui positivi identificati, verrà eseguito il sequenziamento da parte dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo per ricercare eventuali varianti del virus. Lanciano, insieme agli altri sette comuni della provincia, è ritenuta ad alto rischio perché i dati epidemiologici finora emersi ci documentano questo. Quali sono gli elementi che ci hanno consentito di individuarla tale? Sono il tasso di tamponi effettuati, il tasso dei positivi individuati nell'area, il tasso dei focolai, nonché la particolare configurazione, anche geografica, che consente di essere Lanciano un crocevia di più aree. Infatti, sul Lanciano troviamo attività commerciali di grosso interesse per il circondario, abbiamo l'ospedale, le scuole, quindi sul Lanciano convergono tanti cittadini che per motivi di lavoro si rivolgono presso il nostro comune e quindi dobbiamo intercettare il più precocemente possibile gli asintomatici che circolano tra di noi in maniera tale da interrompere la catena di trasmissione.